A domenica in, lo storico contenitore di Rai 1 del pomeriggio festivo, si cucina. Nel programma completamente rivoluzionato, con la conduzione di Cristina e Benedetta Parodi, la minore delle sorelle, tra le tante altre cose, si cimenta anche nella sua passione principale la cucina. Ogni domenica, infatti, ecco ricette veloci e gustose. Prepariamo gli omini di pan di zenzero. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 200 g farina, 1 cucchiaino di zenzero, 1 cucchiaino di cannella, 1-4 di cucchiaino di noce moscata, 1-2 cucchiaino di lievito, 1 pizzico di sale, 70 g burro, 70 g zucchero, 70 g mellassa o miele, 1 uovo procedimento in una ciotola, mettiamo l'uovo intero a temperatura ambiente con lo zucchero, il burro morbido, il miele e mescoliamo per bene con una spatola in silicone. Profumiamo il composto con le spezie, ovvero lo zenzero in polvere, la cannella e la noce moscata. Infine, uniamo la farina insieme al lievito ed il sale. Lavoriamo per bene con le mani, fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. Stendiamo il composto con il mattarello, all'altezza di 3-5 mm. Ritagliamo i biscotti con le formine scelte. Quelle classiche sono a forma di omino. Disponiamo i biscotti su una teglia coperta da carta forno e con una cannuccia facciamo un buchino sulla parte superiore del biscotto in modo che poi si possa appendere all'albero. Inforniamo per 10 minuti circa a 180 grado. Prepariamo la glassa mescoliamo lo zucchero a velo con poche gocce di limone e, se vogliamo, di colorante alimentare. Dobbiamo ottenere una consistenza non troppo liquida, in modo che non colivia dal biscotto.